Signor Formenti, lei è il Presidente anche della Commissione proprio speciale Italia-Svizzera. Oggi un tavolo con tutti i parlamentari lombardi, voluto fortemente per arrivare a un dunque su alcune questioni. Quali sono le principali? Sì, il Presidente Maroni, anche a seguito di una mossa che è stata presentata nel Consiglio, ha voluto questo incontro con tutti i parlamentari lombardi per vedere e capire quali sono le strategie da mettere in campo per risolvere alcuni punti che riguardano i frontalieri. Alcuni punti, per quanto riguarda ad esempio la DIA, l'altro giorno sono stato in Commissione in Subria, una parte, il 50% sono stati risolti, ne rimangono ancora molto da risolvere, molto importanti, alcuni di questi dovranno trovare comunque un consenso anche a livello nazionale, quindi ecco il motivo per cui si chiede ai parlamentari lombardi di parte e parte attiva per risolvere questi problemi che rimangono da risolvere. Grazie.